Un documento di analisi e denuncia, ma anche una proposta su come superare un modello agricolo-industriale che ha fallito, fondato sulla sottrazione e su processi che distruggono la vita e punta solo al profitto di pochi. E' il manifesto Terra Viva, presentato da Navdania International, Banca Etica e Fondazione Triulsa, al padiglione della società civile di Expo. Frutto del lavoro di un panel internazionale di ricercatori, è stato presentato da Vandana Shiva, Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Ugo Bigeri, Presidente di Banca Etica e Etica SGR, Sabina Siniscalchi, Vice Presidente Vicario di Fondazione Triulsa. La crisi che stiamo affrontando è profonda e sta portando milioni di persone alla violenza, nella fame, a fuggire dalle loro terre. Tutto questo è collegato al fatto che il suolo è stato sfruttato, il modo in cui produciamo il cibo sta distruggendo la salute del pianeta e la nostra, ha detto l'ambientalista indiana. Il lavoro del manifesto parte dai dati. Al suolo urbanizzato, entro il 2030 si aggiungerà una città grande come il Sudafrica. La terra fertile è stata erosa, a una velocità tra le 10 e le 40 volte superiore alla sua capacità di rigenerazione. Il 40% delle guerre degli ultimi 60 anni è stato causato da clima, suolo, risorse. La crisi in Siria e il terrorismo di Boko Haram sono figli anche dei mutamenti climatici. Il modello economico che abbiamo è basato sullo sfruttamento e ci porta alla disuguaglianza. L'1% della popolazione controlla metà della ricchezza mondiale è molto ingiusto e non sostenibile. Papa Francesco sta sottolineando questi temi perché l'umanità si svegli in tempo. I cittadini devono essere protagonisti di questo percorso e sono chiamati in causa con precisa responsabilità, come spiega Nonciotti. Non possiamo solo chiedere a chi governa, a chi amministra, alle istituzioni, a cui dobbiamo chiedere sulla faccia di questa terra senza sconti di assumersi la loro parte di responsabilità, ma c'è anche una parte di responsabilità che chiama in gioco a noi come cittadini. Allora non possiamo essere cittadini a intermittenza. Non basta dire che bravo Papa Francesco, non basta battere le mani, tutti sono d'accordo. Per me deve essere una responsabilità, un impegno di tutti a sporcarci concretamente le mani di terra, che vuol dire dignità, di libertà, di vita per le persone. La nuova agricoltura che Terra Viva propone è parte di un processo che punta a ridefinire il concetto di democrazia e libertà.